Avezzano e Chieti proseguono la loro battaglia per restare in Serie D. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto il loro ricorso verso la delibera del Consiglio federale che ne sanciva la retrocessione. Esaurito l'unico grado della giustizia sportiva, come disposto dal decreto rilancio, ora i due club sono pronti a intraprendere il percorso di quella ordinaria, Tar ed eventualmente Consiglio di Stato. Ma in casa Avezzano si spera anche in un'altra strada, quella del ripescaggio. Secondo una gradatoria informale che faleva sui punteggi previsti dalla normativa dei ripescaggi, l'Avezzano sarebbe sesto tra le squadre retrocesse. Tenuto conto che nell'ordine i ripescaggi prenderanno in considerazione alternativamente due squadre retrocesse della D e una seconda di eccellenza, la società di Gianni Paris può sperare, in particolare se si liberassero almeno otto posti per il completamento della D. Intanto, con grande anticipo sui tempi e pur nell'incertezza della categoria, proprio Chieti e Avezzano hanno definito i riferimenti dello staff tecnico. A Chieti, Alessandro Lucarelli allenatore e Beppe Giglio di Esse. Ad Avezzano, Alessandro Delgrosso allenatore e Tonino Paciarella di Esse. Idee chiare anche a Pineto e Castelnuovo. La società del patron Silvio Brocco è pronta a ripartire da Daniele Amaulo, che è tornato in biancazzurro nel girone di ritorno dell'ultimo campionato, fino al lockdown dopo la separazione di un anno fa, che però non aveva incarinato il rapporto di stima tra tecnico e dirigenza. A Castelnuovo si riparte invece con gli uomini che hanno portato la matricola della Valvomano per la prima volta in D, Guido Di Fabio allenatore e Claudio Cicchi di Esse. A Notaresco si riparte dopo aver sognato a lungo una incredibile promozione. Non ci saranno il bomber Marco Sanzovini né il tecnico Roberto Vagnoni con cui si sono separate le strade. Il presidente di Giovanni conferma Paolo D'Ercole di Esse ed è pronto a riabbracciare quel massimo Epifani già avuto alle dipendenze ai tempi del San Nicolò, con ottimi risultati. A Vasto e Giulianova le scelte tecniche si mescolano con gli sviluppi societari non ancora chiari. Per la panchina della Vastese si era parlato di un clamoroso ritorno Marco Amelia ma ora il nome più caldo è quello dell'ex agnonese Massimo Agovino. A Giulianova ci sono un paio di cordate giuliesi pronte a trattare con il presidente Bartolini e finché non ci sarà chiarezza impossibile pensare allo staff tecnico. E Federico Del Grosso per il momento resta alla finestra.